Si è riunita al Parco della Scienza di Teramo la prima assemblea dei soci di Unico Gran Sasso. L'obiettivo è stato quello di esaminare lo stato d'arte dei fondi CIS che il Ministero per il Sud e la coesione sociale ha destinato ad Unico e per nominare i membri della cabina di regia organo associativo decisionale. L'attenzione dei sindaci si è soffermata sull'inadeguatezza del tetto del 10%, destinato ai comuni del cratero abruzzese che di fatto su 160 milioni messi a disposizione dal Ministro Carfagna destina all'Abruzzo solo 16 milioni, che rappresenta una ripartizione sproporzionata e ad oggi ingiustificata rispetto alle altre regioni finanziate dal CIS. Unico comprende tre regioni, la città capoluogo, diversità anche territoriali, ma ciò nonostante l'intento e l'impegno di tutti i sindaci è quello di portare avanti un unico progetto un'unica soluzione, un'unica risoluzione per questi territori. Noi abbiamo un progetto che si chiama Living Gran Sasso, abbiamo presentato al CIS una porzione, una parte pari a 12 milioni di euro, il Ministero, il Governo ha deciso di assegnarci un primo strancio di 3 milioni e 2 per poi arrivare a finanziarci l'intero importo. Una grande soddisfazione perché il progetto è stato approvato, è stato condiviso, una grande soddisfazione perché lo porteremo in esecuzione nel breve tempo, ma con qualche rammarico perché le percentuali di riparto, il famoso 10%, colpisce ancora una volta i nostri territori che crediamo un po' tutti ormai sia, come devo dire, una cosa da rimodulare e rimodificare almeno con 7-8 punti percentuali in più. Siamo partiti con il sisma di agosto dove le condizioni erano diverse, ci sono stati sismi peggiorativi, ottobre, poi gennaio, poi la grande nevicata, l'Ambruzzo deve modificare questo assetto perché poi nella disponibilità delle risorse del PNRR avremo risorse maggiori per poter pianificare ancora di più quello che Unico ha progettato e programmato portando a casa risultati anche importanti. Le infrastrutture, altro argomento di cui si è discusso, credo che non debbano entrare nelle risorse di aiuto delle aree interne. Quelle spese, quelle attività, quelle infrastrutture devono essere a carico del governo, del MIT e non a carico dei territori e dei singoli cittadini.